comunicare almeno parte di quello che stiamo facendo a questo centro di ricerca del Politecnico di Torino e dell'Università di Torino. Vi ringrazio di essere venuti, dedicando almeno parte di un sabato di novembre. Due parole di introduzione. Allora, questo è il secondo appuntamento. Il primo appuntamento dell'anno scorso era stato un appuntamento in cui abbiamo cercato, forse proprio perché era il primo appuntamento, di dare un'idea abbastanza esaustiva dello spettro di attività del centro NEXA, con il risultato, per chi di voi ci fosse stato all'epoca, di una sequenza di interventi su temi molto vari che appunto rappresentavano lo spettro di attività del centro. Quest'anno abbiamo scelto di fare qualcosa di diverso. Abbiamo scelto di selezionare un singolo argomento, l'argomento della libertà di espressione online, su questo singolo argomento dedicheremo la maggior parte della giornata, lasciando poi spazio nel pomeriggio a un incontro che questo invece è al suo quinto, sesto appuntamento, che è Creative Commons Italia 2010, ovvero uno spazio per fare il punto della situazione sull'utilizzo delle licenze Creative Commons per la diffusione di opere dell'ingegno in Italia. Per tutte le altre attività ci sono due possibilità. La prima possibilità, che è quella standard per un centro che si occupa di internet, è quella di andare sul nostro sito web, che è ancora lontano dall'essere perfetto e esaustivo, ma che tenta di dare informazioni utili per capire cosa sono i nostri vari progetti. La seconda possibilità invece è quella che vedete sui fianchi delle sale, ci sono alcuni poster, alcuni piccoli poster, questi piccoli poster presentano alcuni dei progetti in corso in questo momento, ci sarà uno spazio specifico durante la giornata, durante i quali potrete guardare i poster e parlare, discutere, con i ricercatori che stanno portando avanti questi progetti. In particolare mi sento di citare il Neobot, che è un progetto software per misurare la neutralità della rete, Simone Basso, che non ho ancora visto, ma può darsi che si materiali... Eccolo là, lo trovate raggiù in fondo. Simone Basso è lo sviluppatore principale, quindi potrete interagire con lui, l'abbiamo lanciato solo pochi giorni fa. Ultima osservazione è che questo incontro, oltre a essere la conferenza annuale di NEX, fa parte della galassia di incontri, dico galassia perché il numero è abbastanza elevato, sono 21 incontri più le sessioni plenarie, dell'Internet Governance Forum Italia. L'Internet Governance Forum Italia, come sessioni plenarie, avrà luogo a Roma lunedì e martedì, questo, 29 e 30 novembre. L'Internet Governance Forum Italia è la versione italiana di un processo più ampio, che è chiamato l'Internet Governance Forum internazionale, che si è tenuto per 5 anni consecutivi in varie parti del mondo. Gli Internet Governance Forum nazionali sono un tentativo di mettere a fuoco quali sono, qual è la posizione di un determinato paese, nel nostro caso l'Italia, riportarla poi all'Internet Governance Forum internazionale. E quindi lunedì e martedì cercheremo di riflettere su qual è lo stato di internet in Italia, opportunità, criticità. Questo incontro di oggi è uno dei 21 incontri tematici paralleli che si terranno nell'ambito di alcuni giorni e quindi riferirò personalmente a Roma nel pomeriggio di martedì 30, raccontando quali sono in pochi minuti i punti fondamentali emersi relativamente alla libertà di espressione online nella giornata di oggi. Ci ho detto, lascio la parola al mio codirettore, che è Marco Ricolfi, qua seduto alla mia sinistra, che introdurrà il nostro keynote speaker. Grazie. Buongiorno, sono Marco Ricolfi e sono qua soltanto per avere il privilegio e il piacere di introdurre il professor Polo come nostro relatore principale in quest'ottica della conferenza di quest'anno di non passare semplicemente in rassegna dei temi ma di creare un centro di gravità della nostra conferenza. Il piacere deriva dal fatto che conosco da tanti anni il professor Polo, che è professore ordinario di politica economica alla Bocconi e ha un master alla London School of Economics perché lo conosco da parecchi anni e l'ho incontrato, credo, a Villa Gualino dieci anni fa in un incontro su antitrust e regolazione ma l'avevo già conosciuto attraverso i suoi scritti quando mi occupavo più intensamente di oggi di diritto antitrust e l'ho trovato sempre un approccio economico che mi ha aiutato nelle mie analisi giuridiche e abbiamo chiamato qua il professor Polo proprio perché le tre gambe del centro sono quella tecnologica, quella giuridica e quella delle scienze sociali in primis l'economia. Quindi noi pensiamo che tutti i temi che si propongono in internet abbiano delle connotazioni di policy integralmente nuove che vanno viste con delle griglie concettuali all'intersezione tra queste discipline. Questo vale anche per dei temi che sono classicamente di diritto costituzionale come la libertà di espressione perché questa incontra tecnologie nuove e ci richiede dei bilanciamenti di interessi diversi. Il professor Polo è anche autore di un libro appena uscito Notizie SPA per cui mi sembra che anche lui abbia fatto un percorso convergente perché partendo da un interesse prevalentemente economico sta vivendo un allargamento in un certo senso di prospettiva e questa è la ragione per la quale abbiamo pensato che fosse l'uomo che faceva per noi come ci dimostrerà adesso. Buongiorno a tutti permettetemi prima di iniziare la mia relazione di ringraziare gli organizzatori che anche da parte mia conosco spesso da tempo e con cui c'è una familiarità di scambio per questo invito. Mi fa molto piacere parlare di temi di libertà di espressione di pluralismo in questa conferenza. Volevo prima di entrare nel merito fare due piccole notazioni che nascono dalla lettura dei giornali questa mattina in treno venendo a Torino. La prima è che effettivamente sulla prima pagina di tutti i giornali oggi sia un esempio lampante di come i temi della informazione della libertà di espressione siano radicalmente cambiati nel mondo di internet la vicenda di Wikileaks e di quelle che potrebbero essere delle rivelazioni di grandissimo impatto a livello planetario è sicuramente un esempio dei temi di cui oggi si parlava e la seconda osservazione è che probabilmente se qualche complotto c'è non è quello immaginato dal governo ma è chiaramente una manovra di Nexa che è riuscita a calendarizzare perfettamente l'uscita di queste notizie per portare l'attenzione ai temi di oggi quindi chapeau agli organizzatori per questa capacità. Entriamo nel merito della mia chiacchierata di oggi il tema che è stato proposto e che ho perfettamente sposato dagli organizzatori è quello di una prospettiva economica sulla libertà di espressione in Italia e vorrei partire dalle motivazioni di questo mio intervento e poi darvi brevemente un piano di quello che saranno i temi che andrò a approfondire. Le motivazioni sono le motivazioni sostanzialmente del perché un economista si occupa di temi che apparentemente sono lontani dalle discipline classiche della triste scienza in realtà a mio avviso con pochi passaggi logici si comprende perché anche ovviamente non in modo univoco ma anche un contributo da parte di un economista può aiutare a inquadrare i temi del pluralismo e della libertà di espressione infatti oggi in quasi tutti i mercati dei media quasi tutti gli operatori sono operatori privati che operano con logiche proprie di una impresa privata motivata da ragioni economiche e di profitto operano in mercati che per quanto ovviamente condizionati dalle forme di regolazione diffuse tuttavia poi sono mercati che funzionano secondo logiche economiche e quindi comprendere come questi mercati funzionano aiuta a capire anche se dalle forze economiche deriva un contributo o meno al problema della libertà di espressione del pluralismo infatti la concentrazione nel mercato dei media che sarà uno dei temi su cui io mi soffermerò maggiormente dipende dal funzionamento di questi mercati e della competizione fra gli operatori peraltro il pluralismo in particolare nella sua nozione di pluralismo esterno quindi guardando all'offerta di un mercato per quanto riguarda i contenuti dipende da quello che fanno e dal grado di concentrazione nel mercato quindi se ci sono operatori dominanti o meno e se questi poi perseguono profili di contenuti differenziati o invece sostanzialmente simili da questo quindi anche un economista può dire qualcosa forse di interesse per capire se da questi mercati emerge potenzialmente una risposta all'esigenza e all'obiettivo pubblico di pluralismo o invece c'è bisogno di sovrapporre a queste dinamiche economiche delle politiche di regolazione che ne condizionino l'esito in una prospettiva di pluralismo il modo con cui muoverò i miei argomenti è il seguente io vi proporrò come punto di partenza un framework logico non entrerò diciamo così negli aspetti analitici di quello che chiamo un modello multiversante multiside dei mercati dei media è una struttura logica che si applica a tutti i segmenti dei media quindi alla televisione ai giornali alla radio e al mondo di internet ovviamente è una struttura logica flessibile che quindi poi ammette e spiega le differenze che osserviamo in questi mercati in secondo luogo guarderò alle dinamiche concorrenziali attraverso questo modello multiversante e come si possa spiegare l'emergere di strutture di mercato in alcuni comparti dei media tipicamente televisione e giornali concentrate e in altri comparti invece caratterizzate da una maggiore frammentazione questo riguarda quelli che chiamo i due paradigmi compatibili con questo framework logico che vi propongono il primo essendo un paradigma di tipo oligopolistico in cui c'è una concentrazione persistente nel mercato che ben fotografa la situazione della televisione e della stampa il secondo che invece genera struttura di mercato frammentate che cattura le evidenze della radio e del mondo di internet lo farò questo riferimento ai quattro segmenti principali dei media anche presentando alcuni dati sulla situazione italiana chiuderò visto anche il tema della conferenza con alcune riflessioni finali sull'effetto che il mondo di internet ha portato sui media tradizionali a premessa di tutto ciò come colleghiamo la nozione di pluralismo a qualcosa che poi gli occhiali di un economista permettono di vedere il nesso su cui mi concentro oggi è quello del cosiddetto pluralismo esterno che guarda quindi come oggetto su cui valutare l'offerta di contenuti il mercato o i diversi mercati dei media e analizza numero e varietà dei contenuti con un'attenzione particolare vista la nozione di pluralismo e i legami col funzionamento dei sistemi politici democratici dicevo guardando principalmente ai contenuti di tipo sociale politico e culturale offerti dall'insieme degli operatori che sono attivi in un determinato mercato il riferimento per un economista che fa il paio diciamo così che guarda a questa nozione di pluralismo esterno è quello che viene definito un equilibrio di mercato di lungo periodo cioè in cui ammettiamo che i processi di entrata e crescita delle imprese abbiano tempo per svilupparsi e che quindi alla fine ci porta a spiegare l'assetto di mercato più o meno concentrato in base a quelli che gli economisti chiamano i first principles cioè da un lato le caratteristiche delle preferenze dei diversi attori dal lato della domanda in primo luogo gli utenti dall'altra i vincoli che derivano in termini di costi dalla tecnologia che è prevalente in questi mercati quindi gli equilibri di lungo periodo con libertà di entrata sono sostanzialmente la tendenza a cui da un lato le forze della domanda preferenze e dall'altra le forze dell'offerta tecnologia indirizzano una determinata struttura di mercato in particolare di questi equilibri di mercato quello che è interessante guardare avendo a mente l'obiettivo del pluralismo esterno è la distribuzione delle quote di mercato fra i diversi attori e in particolare per quanto riguarda le scelte degli utenti che alla fine sono i percettori finali dei contenuti e quindi delle preoccupazioni in termini di pluralismo e dall'altra il grado di differenziazione fra operatori noi potremmo avere anche un mercato frammentato ma se poi tutti tendono a convogliare lo stesso tipo di contenuti un qualche problema in termini di pluralismo emergerebbe comunque quindi questi sono i due fattori attraverso cui guardare al funzionamento di questi mercati la struttura logica del modello che io utilizzerò deriva dal modo con cui gli economisti da ormai alcuni anni guardano anche al mercato dei media o ai mercati dei media come un buon esempio di una categoria di situazioni economiche che viene catturata dall'etichetta dei two-sided o multi-sided markets cercherò di spiegare qual è la logica sottostante a questo tipo di modelli e di framework logico perché poi tutti i ragionamenti sul funzionamento del mercato guarderanno e utilizzeranno esattamente questo tipo di relazioni al centro c'è quella che chiamiamo una piattaforma che è un operatore nel mercato dei media può essere un operatore televisivo un quotidiano può essere una stazione radio può essere un sito internet qual è la caratteristica di questo tipo di operatori beh quella di dovere per funzionare appropriatamente prendere a bordo tra virgolette cioè far sì che si connettano alla piattaforma diverse categorie di soggetti da un lato gli utenti possono essere i telespettatori i radioascoltatori i navigatori i lettori di giornale che sono interessati ai contenuti che ricevono appunto dalla piattaforma e con cui eventualmente può stabilirsi una relazione commerciale attraverso il pagamento di un abbonamento di una fee come condizione per la ricezione dei contenuti notate che questa ammette anche il caso e dopo rifletteremo su questo di una fee pari a zero cioè di rinunciare da parte della piattaforma a introiti dal lato degli utenti poiché la piattaforma non agisce dal lato dei ricavi solamente su questo side su questo lato del mercato ma anche su quest'altro quello degli inserzionisti pubblicitari a cui vende gli eyeballs gli occhi cioè l'attenzione degli utenti mette cioè a disposizione degli inserzionisti l'attenzione di quanti si connettono alla piattaforma per fruire dei contenuti e ovviamente richiedono agli inserzionisti un prezzo per gli spot gli messaggi che la piattaforma trasmette ma tutto ciò non esaurisce quello che è il ruolo della piattaforma perché c'è un terzo lato fondamentale senza cui la piattaforma è cieca nei confronti degli utenti e che è quello della formazione dei contenuti questo in generale ci porta a individuare una terza categoria di attori quelli che qui chiamo fornitori di contenuti che appunto producono i contenuti stessi può essere una squadra di calcio può essere una major hollywoodiana può essere il gestore di una particolare serie di contenuti che poi vengono immessi su internet e questi quindi si interfacciano alla piattaforma cedendo contenuti alla piattaforma stessa che a sua volta li mette a disposizione degli utenti anche qui c'è una transazione economica che avviene quasi sempre attraverso un pagamento da parte della piattaforma per i contenuti acquisiti questo termine quasi rendite è cruciale è cruciale perché in economia quando parliamo di quasi rendite parliamo di pagamenti a fronte di un oggetto che viene acquisito che per sua natura è scarso e non riproducibile si può applicare a quello che in termini estremamente generali posso chiamare il talento che è necessario per la creazione di contenuti sia questo l'estro calcistico di Cristiano Ronaldo le doti musicali di Bruce Springsteen oppure il fascino di un attore queste sono doti che non sono riproducibili io non posso costruire un secondo Cristiano Ronaldo e quindi il talento è la risorsa scarsa nel funzionamento di tutti questi mercati a fronte di questo talento c'è una capacità di estrarre allora i benefici che poi il contenuto una volta ceduto permette alla piattaforma attraverso un pagamento che la piattaforma esercita nei confronti dei detentori dei contenuti che non è legato al costo di produzione di questi talenti ma semmai alla resa economica che questi contenuti permettono alla piattaforma sui due lati dei ricavi legati alla sottoscrizione da parte degli utenti di un abbonamento e al pagamento degli spot in questo senso l'entità delle quasi rendite quindi i pagamenti che la piattaforma indirizza ai fornitori e gli utenti dipendono dalla entità dei ricavi dal valore economico che questi contenuti strategici hanno per il funzionamento della piattaforma ecco in questo modo noi possiamo guardare ai media ci sono differenze ovviamente fra segmento e segmento ma in tutti i media noi troviamo queste tre categorie di attori fotografate da questi ovali e un soggetto economico al centro questo rettangolo che è l'operatore media la cosa interessante dei mercati a più versanti è il fatto che i lati che vengono messi on board dalla piattaforma non sono scelti casualmente ma hanno una ragione economica e permettono quindi la generazione di un valore da parte della piattaforma nella misura in cui esistono dei legami delle esternalità nel linguaggio degli economisti fra alcuni di queste categorie di soggetti pensiamo alla domanda di spazi pubblicitari da parte degli inserzionisti dipende dal numero e eventualmente anche delle caratteristiche reddituali o demografiche degli utenti che osserveranno quei messaggi maggiore il numero di utenti e eventualmente le caratteristiche socio-economiche e demografiche che li caratterizzano maggiore è il prezzo che per quello stesso spot un operatore tv può pretendere la domanda di contenuti questa volta che origina dal lato degli utenti e che si rivolge alla piattaforma è tanto maggiore quanto più alta è la qualità o attrattività dei contenuti stessi se io trasmetto una partita di Europa League o un film di scarso interesse e dal punto di vista del genere comunque un prodotto classificabile come sport o film ma sicuramente la disponibilità a pagare da parte degli utenti è ben minore che se invece avessi la finale di Champions League piuttosto che un film blockbuster della stagione da ultimo possiamo anche immaginare un ultimo legame questa volta negativo fra alcuni di questi lati perché ad esempio in molti media la interruzione dei contenuti per gli spot pubblicitari è considerata un fattore di fastidio da parte di chi è interessato ai contenuti stessi e quindi genera questo un effetto negativo dal lato degli inserzionisti al lato degli utenti ecco l'interessante delle piattaforme multisided è che alla fine il funzionamento e le scelte sui diversi lati devono tenere presente queste interazioni vediamo quali sono le strategie che vengono scelte dagli operatori la strategia diciamo così di più lungo periodo quella che caratterizza in qualche modo il dna di un particolare operatore media sia su una televisione un giornale un sito internet una radio riguarda diciamo così il posizionamento quello che chiamo posizionamento cioè la caratterizzazione su un insieme di contenuti una particolare coloritura di questi contenuti che l'utente poi sa di poter ritrovare in quel particolare operatore media questo può essere ad esempio un posizionamento politico di un giornale piuttosto che la scelta di fare di coprire in particolare la cronaca locale di un determinato territorio piuttosto che per un operatore tv la scelta di una palinsesto che vada incontro ai gusti di un particolare segmento di pubblico piuttosto che per un sito internet ovviamente ad esempio focalizzarsi su particolari tematiche ecco questo determina alla fine un sotto insieme di utenti privilegiati che in modo le cui interessi le cui preferenze sono particolarmente vicine a quello operatore e d'altra parte questo è un esempio di quello che gli economisti chiamano differenziazione orizzontale e che cosa determina il fatto che io mi posiziono determina il fatto che ne deriva un particolare sotto insieme di contenuti come cruciale nel funzionamento del mio mezzo di comunicazione se ad esempio scelgo di essere una gazzetta locale ovviamente dovrò avere un'alta copertura delle tematiche del territorio se faccio una televisione che si rivolge al pubblico giovanile ecco che devo privilegiare determinati contenuti musicali di intrattenimento che sono particolarmente sentiti dal pubblico giovanile e così via questa è una scelta di lungo periodo perché deve rendere riconoscibile il mezzo agli occhi del pubblico non a caso tutte le volte che ad esempio un nuovo direttore di giornale si insedia la prima cosa che fa sia nell'incontro con la redazione che in genere in un fondo che esce di presentazione di autopresentazione dei lettori è di fissare diciamo così la propria linea editoriale il dna di quello che vorrà essere ad esempio il quotidiano sotto la direzione di questa nuova persona e questa è esattamente l'esplicitazione di quello che io chiamo posizionamento ma una volta definito il posizionamento le cose non finiscono lì nel caratterizzare i contenuti di un media io posso ad esempio aver scelto di rivolgermi a un pubblico locale ma poi posso farlo con cronache abbastanza povere o invece con una copertura estremamente attenta e capillare delle vicende del territorio questo ovviamente implica una redazione maggiore oppure posso desiderare di rivolgermi a un pubblico interessato agli eventi sportivi ma poi riprendendo l'esempio di prima potrei alla fine trasmettere le partite dell'Europa League o invece puntare al bersaglio grosso a quello che è il vero condotto premium che sono la fascia delle partite di Champions League quindi dentro un determinato set di contenuti poi c'è un'ulteriore decisione che è quella sulla attrattiva o se vogliamola in senso lato qualità dei contenuti rilevanti rilevanti in base al posizionamento che ho scelto questo è un problema di cosiddetta differenziazione verticale o qualità ritornando al linguaggio economico e determina l'entità dei costi fissi quel pagamento di quasi rendite che prima richiamavo e che va dalla piattaforma al detentore e fornitori di contenuti infine c'è da definire il sistema dei prezzi della piattaforma stessa nei confronti degli utenti e degli inserzionisti quei due ovali che stavano in basso nel grafico precedente questo determina la struttura dei ricavi anche qui abbiamo una grande varietà di soluzioni tra media diversi quindi fra mercati diversi e all'interno di uno stesso mercato fra operatori differenti noi osserviamo oggi ad esempio nella carta stampata la convivenza di free press e giornali tradizionali che ricavano sia dagli utenti che dagli inserzionisti una parte dei propri ricavi dove la free press invece vive solamente sulle inserzioni pubblicitarie abbiamo canali televisivi tradizionali che vivono sulla pubblicità quelli commerciali e invece distribuiscono gratis i contenuti e altri i canali pay che invece prioritariamente hanno un bilancio governato dai ricavi da sottoscrizione per internet abbiamo quasi sempre distribuzione gratuita dei contenuti e alcuni invece siti che hanno contenuti premium che sono accessibili solo attraverso il pagamento di una fee e così via questo determina la struttura dei ricavi in questo contesto e con questa serie di interazione fra i lati e di decisioni da parte degli operatori qual è l'impatto della concorrenza sui diversi versanti una concorrenza più intensa che implicazioni ha quando guardiamo alla relazione fra la piattaforma e quell'ovale che stava in alto i fornitori di contenuti una maggior competizione per gli stessi contenuti porta inevitabilmente a un aumento del loro prezzo se c'è un'asta per i diritti di trasmissione della Champions League e ci sono due operatori televisivi che competono per aggiudicarsi in forma di esclusiva chiaramente il prezzo sale e sale significativamente proprio perché entrambi sanno che quello è il contenuto premium e sono disposti a pagare tanto perché sanno che una volta che quello è in palinsesto genera dal lato dei ricavi alti introiti d'altra parte come possono fare gli operatori media a allentare questa pressione competitiva che alla fine si riflette in una espansione dei costi dei contenuti e quindi in una contrazione dei profitti attraverso un posizionamento in parte differente posizionandosi in modo differente diversi sono i contenuti strategici che i diversi media devono alla fine procurarsi quindi la competizione è meno sovrapposta sugli stessi contenuti e spinge meno intensamente i costi dei contenuti stessi verso l'alto e poi c'è il lato dei ricavi dove si fissano i prezzi per gli abbonamenti e per gli spot anche qui una concorrenza intensa per rubarsi gli utenti porta a una riduzione del prezzo della sottoscrizione pensate alla dinamica dei prezzi fra Sky e i canali premium di Mediaset che ha portato a una riduzione dei prezzi degli abbonamenti così come una competizione per aggiudicarsi i favori degli inserzionisti più pregiati porta a una riduzione del prezzo degli spot tutti sanno che il mercato pubblicitario nella televisione è governato da enormi sconti rispetto alle tariffe ufficiali diciamo così di listino proprio perché c'è una forte concorrenza per rubarsi i clienti più pregiati quindi di nuovo la competizione riduce i profitti anche dal lato dei ricavi non solo fa salire i costi ma riduce i ricavi nella forma di una caduta di prezzi come possono fare i diversi operatori media a allentare la competizione di prezzo in parte optando per modelli di business differenti modelli di business differenti che ad esempio fanno sì che un operatore abbia una struttura dei ricavi tutta sbilanciata su uno dei due lati ad esempio gli inserzionisti e un altro che invece scelga e opti per una struttura dei ricavi totalmente sbilanciata dal lato degli utenti che pagano le fees di sottoscrizione in questo modo diciamo così non si mangia nello stesso mercato dal lato dei ricavi e quindi la competizione un po' si allenta questo grafico temo di non aver tempo di discutere quindi passo avanti e vediamo quali sono i risultati che la letteratura economica ha prodotto e che ci permettono di individuare poi il punto di partenza per la nostra riflessione sul funzionamento di questi mercati un primo risultato è che effettivamente gli operatori dei media tendono a differenziare per quanto possibile il loro posizionamento proprio perché questo allenta la concorrenza sui contenuti e per lo stesso tipo di utenti tuttavia non tutti i mercati dei media sono ugualmente diciamo così consentono in ugual misura di differenziare il posizionamento molto dipende da come è la distribuzione delle preferenze se tutti gli utenti i telespettatori sono interessati a pochissimi generi sport movies e varietà tanto per dire e all'interno di questi sport vuol dire calcio film vuol dire i film di cassetta della stagione e così via non c'è molto spazio per differenziarsi pur volendo e quindi anche questo canale di allentamento della concorrenza ha un scope limitato anche se gli operatori comunque riescono allentare la concorrenza di prezzo ad esempio scegliendo business model diversi prendiamo l'esempio della tv finanzata con pubblicità rispetto alla pay o la free press rispetto ai giornali tradizionali comunque questi operatori tendono a competere sui mercati dei contenuti e spesso su contenuti abbastanza sovrapposti pensate di nuovo la champions league che troviamo sia su canali in chiaro che su canali pay proprio perché entrambi i modelli di business in realtà fanno molti soldi se hanno la champions league l'uno il canale pay perché io pago un abbonamento se posso vedere la champions league l'altro il canale free perché ha alta audience e quindi introiti pubblicitari rilevanti quindi comunque anche se diciamo così non si pestano i piedi dal lato dei ricavi si incontrano al piano superiore dove si compete nei contenuti e questo spinge a un incremento dei costi pagati per i contenuti stessi quelli che gli economisti hanno definito come il paradigma degli endogenous sunk costs cioè costi che proprio perché sono quasi rendite in realtà dipendono non dal costo di produzione di quegli input ma dal funzionamento del mercato in particolare dai ricavi potenziali che una volta acquisito un contenuto premium io sono in grado di fare sugli altri versanti più alti costi fissi implicano mercati più concentrati perché io se devo coprire coi ricavi elevati costi fissi ho bisogno di alti ricavi e quindi dal lato dei ricavi il mercato non riesce a spezzettarsi in troppi operatori la torta dei ricavi potenziali è data e se io provassi a ritagliarne troppe fette nessuno poi è in grado di coprire i propri costi fissi per accedere a quel pasto e quindi il numero di operatori ridurrebbe attraverso fallimenti e il mercato rimane concentrato l'altra cosa interessante non solo rimane concentrato ma se prendiamo una torta più grande cioè un mercato potenziale maggiore perché ad esempio ci sono più utenti oppure in quel paese gli investimenti pubblicitari sono maggiori questo non ammette un numero di commensali maggiori al pasto ma semplicemente il costo per accedervi sale come dire se i ricavi potenziali sono maggiori questi maggiori ricavi sono attratti verso l'alto dai detentori di contenuti che si faranno pagare di più in quel mercato per quegli stessi contenuti se voi provate a controllare i prezzi di certi diritti televisivi di contenuti premium vedete che seguono esattamente la dimensione economica ad esempio la dimensione della torta pubblicitaria dei diversi paesi paesi più grandi pago di più la Champions League il contenuto è lo stesso le quasi rendite che si possono attrarre sono maggiori ma questo vuol dire che allora i commensali restano pochi perché devono pagare di più per accedere al pasto provo a raccontarvi le due possibili soluzioni come si dice in inglese in a nutshell cioè con un esempio piccolo ma che dovrebbe essere indicativo e lo faccio proponendovi due soluzioni che sono compatibili con il framework logico che vi ho proposto e che portano però a due soluzioni diverse l'una frammentata e l'altra concentrata il primo esempio è quello della radio dove il contenuto prevalente in quasi tutti i canali radio è di tipo musicale ora se voi pensate alle vostre preferenze il dato tipico con la musica è che l'ascolto ripetuto è piacevole pensate al vostro ipod quante volte avete sentito i vostri brani preferiti l'utilità non cade con l'ascolto ripetuto questo fa sì che i contratti prevalenti siano contratti non di esclusiva con un solo operatore ma di royalties tutte le volte che in qualunque mezzo viene trasmesso uno stesso contenuto i costi per accedere ai contenuti sono quindi molto minori e questo fa sì che i costi fissi siano più limitati e la struttura della radio è più frammentata muoviamoci al video alle tv dove ovviamente i contenuti cruciali sono i contenuti appunto video beh qui per quasi tutti l'utilità dopo la prima volta che vedo un contenuto crolla a zero sono disposto a pagare pochissimo per rivedere una stessa partita uno stesso film eccetera cosa implica questo beh che i contratti prevalenti qui sono contratti di esclusiva chi ha il talento e ha il contenuto premiante sa che solamente la prima volta che lo vedono ha un valore e quindi in realtà genera una competizione per essere l'unico operatore che lo trasmette questo genera contratti di esclusiva una forte competizione per i contenuti premium alti costi fissi mercato concentrato vedete che dalla natura differente delle preferenze derivano implicazioni molto diverse sulla struttura del mercato adesso fuori dalla nocciolina diciamolo la stessa cosa in modo un pochino più ricco perché da quel framework logico noi possiamo trarre due famiglie di equilibri di mercato diversi che poi si attagliano ciascuna a un paio di mercati importanti dei media il primo è quello che chiamo il paradigma competitivo che ben si adatta come vedremo anche nei dati italiani a radio e internet i costi fissi sono limitati e debolmente crescenti nella qualità dei contenuti ad esempio i diritti alla CIA non crescono particolarmente perché è un contenuto un brano musicale che va per la maggiore lo trasmetto di più quindi pago più volte ma il prezzo non cambia radicalmente abbiamo molte più possibilità di posizionamenti diversi pensate a internet ne derivano mercati frammentati inoltre in mercati più grandi questa volta non aumentando il biglietto d'ingresso questa volta più commensali possono siedersi a tavola e quindi aumenta ulteriormente il numero di attori e la frammentazione del mercato qui in questo contesto notate il pluralismo esterno trova una soddisfazione dalle forze di mercato senza bisogno di sovrapporci politiche pubbliche ma non esaurisce questo paradigma l'insieme del mondo dei media perché abbiamo un secondo paradigma che chiamo oligopolistico e che purtroppo si adatta bene a quelli che sono ancora oggi i due principali mezzi di informazione tv e giornali qui i costi fissi sono elevati e crescenti nella qualità dei contenuti sono più limitate spesso le opportunità di scegliere posizionamenti diversi questo è un dato che lentamente cambia con l'offerta multicanale se ho tempo poi ne parlo possono emergere diversi modelli di business che allentano un po' la competizione sul lato dei ricavi ma i mercati sono comunque concentrati perché dal lato dei contenuti la dinamica dei costi fissi genera enormi esborsi per i contenuti strategici per un dato mercato emergono quindi pochi operatori dominanti inoltre una cosa interessante legata ai diversi modelli di business gli operatori pay influenzano sicuramente la concorrenza nei contenuti Sky e Mediaset si fanno la guerra per avere per avere i diritti sportivi o dei film molto meno però nella competizione per la audience proprio perché se scelgo un modello di business pay tv io incasso quando la gente sottoscrive all'inizio del mese la sottoscrizione e lo fa perché sa che durante il mese alcune volte guarderà il mio programma ma non ha nessun bisogno di avere una alta audience media tutto il giorno tutto il mese come un canale televisivo di audience che vive sulla pubblicità quest'ultimo avrà quindi un palinsesto che garantisce non già questi picchi che sono tipici dell'audience della pay tv ma una audience media molto più elevata in termini di pluralismo questo vuol dire che gli utenti magari pagano tanto per la sottoscrizione quindi l'utente pay ha un valore economico un fatturato simile a un operatore tradizionale però in termini di audience come vedremo fra un attimo la guerra non c'è cioè l'operatore pay morde poco sulla audience e quindi su quella dimensione che è cruciale per il pluralismo mercati più alti non portano a una riduzione della concentrazione anche qui vedremo dai dati europei paesi molto diversi di dimensione hanno concentrazioni simili nella televisione qui abbiamo rilevanti problemi per il pluralismo esterno quindi l'analisi economica restituisce poi alla discussione di policy un caveat attenti perché questi sono segmenti dove le forze di mercato da sole non assicurano una sufficiente articolazione delle scelte nel mercato vediamo allora rapidamente qualche dato questo è un dato sulla audience dei primi sei canali o dei primi due gruppi nei principali paesi europei è estremamente elevata scende ma è comunque ancora estremamente elevata nel decennio che si sta chiudendo l'Italia è particolarmente elevata e questo poi è un dato che caratterizza l'Italia rispetto agli altri è l'unico paese in cui i primi sei canali sono dei primi due gruppi negli altri paesi per ragioni regolamentari che proibiscono la detenzione di più licenze su questo tipo di canali c'è una concentrazione nei canali leader ma questi non sono degli stessi editori inoltre vediamo l'eredità che pur anche questa lentamente diminuisce ma l'eredità dei canali pubblici che storicamente in Europa sono stati la forma di creazione del mercato televisivo dopo la seconda guerra mondiale qui sotto abbiamo un'analisi più dettagliata della audience dei diversi canali italiani e su questa tabella vi vorrei solamente invitare a questo tipo di osservazione questo è un decennio dove è successo di tutto dal punto di vista della informazione del mondo dei media io non so se Nexa c'era già nel 2000 ma probabilmente se c'era guardava un mondo ancora abbastanza ai suoi inizi rispetto a quello che è oggi il mondo della rete beh in tutto questo mondo dove sono arrivati i telefoni cellulari esploso internet eccetera se dobbiamo fare una sintesi i due principali canali della televisione tradizionale generalista hanno perso 10 punti questo è tutto quello che è successo questi 10 punti sono andati notate a vantaggio del satellite cioè di Sky che però appunto morde poco in termini di audience morde ben di più guardatelo in termini di ricavi questo è il fatturato Rai Mediaset e Sky Sky ha superato da due anni Mediaset e è molto vicina alla Rai e guardate i diversi business model Mediaset ha quasi tutti i ricavi dalla pubblicità Sky ha quasi tutti i ricavi dalla pay quindi in quel modo diciamo così quando dicevo non ci si pesta i piedi dal lato dei ricavi ma competono fortemente sul lato dei contenuti qui c'è una stima dei costi di palinsesto per Rai Mediaset è la 7 quindi dei canali in chiaro e vedete l'enorme differenza nel costo del palinsesto fra chi poi ha una audience che permette di ripagare quei costi e quindi riesce a giudicarsi i contenuti premium e chi invece è non a caso forse si chiama la 7 l'eterno settimino del mercato televisivo italiano non avendo una audience che può permettere di ripagare certi contenuti perde sistematicamente o non prova neanche a giudicarsi i contenuti premium e quindi ha Europa League e non la Champions League ha l'Ispettor Barnaby e non CSI tanto per fare due esempi quotidiani quotidiani uno potrebbe dire beh vado in un'edicola ho 60 titoli e passa quindi dov'è il problema perché parliamo di concentrazione dei quotidiani in realtà poi guardando meglio sul davanti dell'edicola ho alcune pile molto alte cioè molte copie e poi una serie di singole copie per qualche affezionato che magari passa di lì di quasi tutti gli altri titoli in altri termini il mercato dei giornali è un mercato che è una sorta di millefoglie se noi lo vediamo prendendo tutti i quotidiani in una stesso recinto che è quello delle vendite nazionali e ne calcoliamo la concentrazione con un indice che gli economisti usano si chiama indice di Erfindahl è un indice che può arrivare fino a 10.000 che vuol dire monopolio o essere prossimo a zero che vuol dire mercato concorrenziale ecco il dato non lo vedete ma qui c'è un 575 che vuol dire bassissimo a livello nazionale questo è quello che uno potrebbe dire dicendo beh i giornali non hanno un problema di concentrazione però poi inizia a dire proviamo a replicare lo stesso esercizio quando invece distinguiamo i diversi mercati regionali eccoli qua e vedete che i numeri sono molto più elevati e già che siamo a Torino guardiamo questo numero che è con la Val d'Osta il più elevato di tutti i torinesi al 70% comprano la stampa questo e poi ripetendo l'esercizio a livello provinciale ancora più elevati i numeri in altri termini il mercato italiano dei quotidiani è un mercato che prevalentemente guarda e è interessato alle notizie locali e quindi è una sorta di macchia di leopardo di tanti piccoli oligopoli o anche monopoli locali in cui ciascun cittadino sostanzialmente guarda uno due possibili opzioni al massimo quando arriva l'edicola e quindi anche qui abbiamo un problema di concentrazione se guardiamo a questa tabella qui abbiamo il business model che tipicamente ha più o meno metà dei ricavi dalla pubblicità e l'altra metà invece dal pagamento della coppia la free press invece ovviamente è tutta sbilanciata dal lato della pubblicità ma in termini del ragionamento che faccio questa è la tabella che mi interessa proporvi qui ho giornali di diverse categorie i provinciali delle province più piccole delle province medie qui inizio ad avere i giornali regionali e qui ho quelli nazionali questa è la dimensione delle redazioni le redazioni sono il principale costo fisso strutturale dei giornali per avere una qualità di copertura maggiore devo avere più giornalisti e vedete subito che c'è una correlazione fra il target di mercato che io ho e la dimensione delle redazioni che devo avere quindi in un mercato più grande ad esempio la stampa nazionale io devo coprire bene molti più generi ho bisogno di una redazione più alta e quindi un costo fisso più alto fra l'altro questo è il costo unitario dei giornalisti non solo più giornalisti ma giornalisti con competenze professionalità anzianità maggiore quindi che costano di più entrambe ragioni che fanno lievitare i costi se io voglio posizionarmi in un mercato come quello nazionale oppure multiregionale dove devo coprire più tematiche quindi ho bisogno di redazioni maggiori costi più alti quindi ciascuno di quegli strati in cui abbiamo letto dal lato della domanda i giornali le gazzette locali fino ai grandi quotidiani nazionali è per sua natura concentrato è più piccolo il mercato locale tuttavia e per fare una gazzetta di quel genere ho bisogno di una redazione più piccola tuttavia costi e ricavi si inseguono anche qui e fan sì che raramente in una stessa provincia ci siano due giornali giornali locali nelle province più grandi c'è ma nelle più piccole no e così via quindi anche per i giornali c'è questo meccanismo fra costi fissi le redazioni sostanzialmente e ricavi potenziali che mantiene concentrato il mercato per le radio e qui entriamo finalmente in posti più sereni questi sono gli ascolti medi sono dati insieme dal 2007 e questo è il valore di quell'indice che è molto basso e per la radio è molto più naturale pensare a un mercato nazionale tutte queste sono radio che hanno una dimensione una programmazione una copertura di tematiche che non è specifica quindi la radio dove ripeto i costi dei contenuti è più bassa è un mercato che immediatamente diventa più frammentato e competitivo è quel paradigma competitivo che ci dà un po' di seranità quando guardiamo questi assetti dal punto di vista del pluralismo da ultimo internet internet uno potrebbe dire i costi di entrata sono molto bassi sia i costi economici che le competenze e viva un mercato molto frammentato e è ovvio che la rete è un mondo frammentato nel senso che se pensiamo al numero sconfinato di siti che esistono sulla rete abbiamo il regno dell'abbondanza anche qui però un po' di cautela questa volta per la rete fenomeni di concentrazione non nascono dal lato del costi fissi dal lato dell'offerta va da un meccanismo che gli economisti chiamano di economia di scala dal lato della domanda o di effetti di rete nel senso che tipicamente io posso avere un'utilità maggiore dal visitare un sito che anche altri visitano perché condividiamo i contenuti ne parliamo magari è una social community in cui proprio io l'incontro e inoltre gli sviluppatori di contenuti sono più contenti di lavorare per siti più popolari perché accedono alla fine a un pubblico finale più ricco questo è un tipico fenomeno che abbiamo nel mondo del software ma che in parte si trova anche nel mondo di internet e questo fa sì che in realtà la distribuzione delle quote di mercato in termini ad esempio di visitatori sia molto asimmetrica cioè il mondo di internet è una sconfinata landa di nani ma un dato che si è osservato nell'ultimo decennio un po' in tutti i paesi avanzati è un arretramento nel numero di copie vendute nella stampa quotidiana un arretramento che negli Stati Uniti ha registrato un meno 14% in Italia ancora più significativo un meno 20% fra il 2000 e il 2009 e questo ha portato a una accusa che spesso si legge nel dibattito pubblicistico secondo cui i siti online di notizie spesso fra l'altro siti online degli stessi giornali che poi sono in edicola su carta provocano la crisi della carta stampata cannibalizzano il quotidiano stampato io non penso che il legame sia così diretto però penso che ci sia un legame fra internet e la crisi latente di quello che è il più antico mezzo di formazione dell'opinione pubblica cioè la carta stampata se guardiamo se guardiamo al format tipico con cui le notizie sono strutturate nei siti online di news è un format molto più simile alle news della tv che non a quelle dei giornali è aggiornato continuamente le notizie però sono brevi si tenta sempre più di arricchirle anche di contenuti video e quella semmai è la differenza forte con le news serali però da quel punto di vista se io ho acceso il computer su un sito online di un giornale tutto il giorno posso risparmiarmi il Tg1 la sera perché ho già perfettamente tutte le informazioni anzi probabilmente qualcuna di più quindi non si capisce perché internet non cannibalizza la televisione facendo le stesse cose nel giornale invece trovo cose diverse approfondimenti articoli più lunghi più articoli sullo stesso tema eccetera e li trovo il giorno dopo quindi sono due offerte diverse perché deve il sito online cannibalizzare internet secondo me l'effetto c'è ma è più sottile ma va compreso se no alla fine le ricette sono sbagliate e l'effetto è il seguente cioè il mondo di internet ha portato un enorme aumento dell'offerta di contenuti se pensiamo a dieci anni fa e adesso il mondo è totalmente cambiato perché noi abbiamo appena alla distanza di un click la biblioteca di Alessandria sempre aperta giorno e notte c'è però un dato fisiologico che c'è oggi c'era 150 anni fa e presumibilmente ci sarà fra 150 anni il tempo che ci metto a leggere una riga di testo è lo stesso cioè il tempo e l'attenzione sono il fattore scarso nelle scelte del pubblico quindi abbiamo un'enorme competizione dal lato delle offerte ai contenuti e la domanda è vincolata da questa struttura fisiologica che impedisce di poter accogliere tutta questa abbondanza c'è quindi una competizione per l'attenzione chi viene spiazzato di fatto viene spiazzato quel tipo di formati con cui tradizionalmente le notizie sono date che richiede un'unità di tempo maggiore per essere ricevuto cioè il giornale io per leggere un articolo ci metto cinque minuti poi magari ci rifletto e ne so di più però in quei cinque minuti visito dieci siti invece ecco che quindi i giornali sono spiazzati non perché vicino gli si è messo un sito online che l'ha buttato fuori ma perché i giornali sono gli ultimi della catena se li ordiniamo per tempo necessario per acquisire i contenuti dopo il quale ci sono tante cose e in cima è arrivato uno molto prepotente che ha dato una botta a tutti che hanno iniziato a slittare non a caso il tipo di informazione si è molto accorciata in questi anni e chi casca giù è quello che è dall'altra parte del tavolo e che a un certo punto si trova con meno lettori se vediamo in Italia in media c'è un'ora al giorno su internet in cui il 16% è passato su Facebook e l'1,4% è passato sui siti news in altri termini poi nella gara per l'attenzione chi vince non è necessariamente il sito online ma sono altri tipi di intrattenimenti ma in cui io non sto più leggendo il giornale grazie grazie a questo intervento in questa relazione così ricca del professor Polo se posso fare un commento è che è stata proprio divisa in due parti l'apparato analitico che ci ha messo insieme degli schemi di tipo logico che sentiti sembrano essere semplici ed elementari ma poi la loro applicazione porta a delle conclusioni tutt'altro che ovvie che sono proprio il valore aggiunto dell'applicazione di questi schemi di partenza a una realtà della quale io almeno ma forse molti di noi abbiamo un'idea impressionistica con una serie di indicazioni che però poi non reggono del tutto alla verifica dei dati sulla base di questi schemi il concorrente vero la carta stampata sembra essere in questa prospettiva ed è probabile che sia così più facebook che i siti online e questi sono degli elementi di effettivo arricchimento che vanno poi incorporati in un dibattito e forse la cosa migliore è incominciare anche se non era previsto ma la ricchezza di questo intervento ci consiglia di avere un inizio di dibattito quindi raccoglierai dal pubblico qualche riflessione qualche intervento anche perché il professor Polo sarà qui ancora con noi per credo una mezz'oretta e poi è un treno che lo aspetta abbiamo qualcuno che allora vuol dire che siamo stati tutti un po' spiazzati da questo intervento e quindi ecco abbiamo una osservazione buongiorno io avevo due osservazioni la prima è a riguardo del meccanismo del mercato dei media e lo schema sulla multi-sided market e volevo sapere se il rapporto tra fornitori di contenuti e la piattaforma che quindi è un rapporto di scambio di contenuti per remunerazione per quasi rendita se ho ben capito quindi una quasi rendita dovrebbe essere un pagamento per contenuti scarsi e non riproducibili internet non mette un po' in crisi questo meccanismo visto che soprattutto nel mondo del web 2.0 i contenuti sono costantemente creati copiati e riformulati quindi diventano tutt'altro che scarsi e tutt'altro che non riproducibili quindi non sarebbe piuttosto necessario a mio avviso introdurre un'altra variante tipo un brand un marchio che possa attestare la qualità dell'informazione per poterla poi giudicare come scarsa e quindi talentuosa e meritevole di una quasi rendita e poi avevo una seconda osservazione mentre lei ragiona non perdiamo la sua domanda era complessa anche se effettivamente molto interessante cominciamo a sentire su questo intanto lei pensa alla seconda e magari riesce anche a formularla in maniera più compatta c'è ovviamente un problema di diritti d'autore dietro il tipo di relazione fra fornitore di contenuti e piattaforma perché io riesco a farmi pagare la quasi rendita nella misura in cui io posso ad esempio utilizzare un contratto di esclusiva una privativa che impedisce a chi non mi paga di riprodurre quello stesso tipo di contenuti e quindi in questo senso tutte le volte che si allenta la protezione di questo diritto esclusivo a poi trasmettere agli utenti un particolare contenuto ecco che si riduce la possibilità di pagamento che le piattaforme fanno nei confronti dei fornitori di contenuti questo l'abbiamo visto in modo plateale nel mondo della musica con la diffondersi dello scambio peer to peer oggi noi vediamo degli allegri signori di 60 65 anni con i boccoli bianchi che si riprendono a fare i tour perché evidentemente quello è l'unico modo con cui io genero un evento che o compro in quel momento e vado al concerto oppure non ne posso fruire mentre le royalties su i vecchi pezzi di quando lo stesso gruppo andava per la maggiore sono erose dallo scambio peer to peer dei contenuti quindi questo è vero l'altra cosa di internet è che poi ci possono essere motivazioni questo è tutto l'analisi che gli economisti fanno del mondo open source motivazioni differenti da quella della mero introito commerciale da parte di chi crea un contenuto motivazioni che possono essere di riconoscimento della propria community piuttosto che di segnalazione del proprio valore professionale queste sono spiegazioni che gli economisti hanno cercato di dare a un fenomeno come quello del software open source che a priori stupisce un economista perché non c'è nessun pagamento a fronte di un forte impegno di ingegno per creare nuovi contenuti quindi in quel senso il mondo di internet poi vede anche un'abbondanza di contenuti che non derivano da quel tipo di pagamenti quest'estate penso ricordate la fugace momento di popolarità di due ragazzine romane che casualmente erano state intervistate e se ne erano usciti con questa battuta Nabira in Calippo e per quattro giorni sulla rete hanno infuriato e sono state cliccate finché le intervistavano erano buffe perché sembravano quasi delle star hollywoodiane poi dopo quattro giorni se ne sono dimenticate ma uno a quel punto cercava di inventare non io ma insomma nella fascia adolescenziale probabilmente c'era una grande ricerca di inventarsi altri modi di bucare l'attenzione andare alla popolarità senza che queste ricevessero proprio un pagamento monetario e quella la seconda osservazione era sul fatto che su internet la concentrazione nasce dalla domanda e non dall'offerta e mi veniva in mente il caso dei social network come ad esempio facebook che hanno più di 500 milioni di iscritti e non hanno mai pensato di offrire anche un servizio di informazione ma nel caso in cui venisse in mente a zuckenberg di offrire anche un servizio di informazione non sarebbe a questo punto l'offerta che determina una concentrazione assolutamente nel senso che lì probabilmente ci sono dei soldi sul tavolo che ancora facebook non è riuscita bene a identificare come appropriarsene però il meccanismo fondamentale di facebook è appunto quello dal lato della domanda io sono aderisco lì perché trovo altri che vi aderiscono e ci metto le foto perché so che poi i miei amici le mettono quindi anche i contenuti li fornisco perché so che poi verranno condivisi quello è tutto l'atto della domanda quello che sta giù nel mio schema logico dal lato degli utenti faccio un'osservazione anch'io oggi forse abbiamo in mente in questo incontro di parlare dell'anomalia italiana forse anche dell'anomalia francese forse anche dell'anomalia inglese quello che abbiamo visto invece sono le determinanti di base che sono le determinanti di base che hanno un condizionamento economico e di mercato per cui ci sono delle regolarità ricorrenti che sono schema analitico da cui partire poi per analizzare le particolarità dei singoli casi sui quali arriveremo nei passaggi successivi se non ci sono altre osservazioni o domande su questo ce n'è ancora una e prendiamo ancora questa domanda e poi passiamo al tema successivo ringraziando poi il professor Apollo buongiorno ero incuriosita da due cose che ha detto forse se ci può tornare sopra uno se ho capito bene che modelli di business differenti creano sostanzialmente gli stessi contenuti o perché tutti vogliono la Champions League o perché altri motivi che lei ha detto mi chiedo se me lo può spiegare ancora se è solo l'economia che determina questo conformismo poi dei gusti e la seconda cosa lei ha fatto vedere gli ascolti degli ultimi dieci anni e mi sembra che con un tono un po' di sorpresa ci presentava il fatto che sono solo dieci punti di share di fronte a tanti cambiamenti compresi i device cosa vi sareste invece aspettati più di dieci punti dunque sui contenuti tutto dipende dai gusti del pubblico allora le pay tv facciamo l'esempio della tv che è il modello più evidente di diversi business models tutte le pay tv storicamente sono partite offrendo solo due tipi di generi sport e movies perché perché quella era una sotto insieme di pubblico con un'alta motivazione e quindi potenzialmente una alta disponibilità a pagare per l'esclusiva di contenuti premium anche se non molto numeroso poi nella gusti del pubblico c'è anche una coda molto lunga e con una bassa disponibilità a pagare per altri contenuti che invece si interessa di varietà di fiction e così via allora quello che tipicamente le pay tv vanno a aggredire sono quei segmenti alta disponibilità a pagare del pubblico poi storicamente una volta che uno si è abituato a vedere 20 euro che se ne escono ogni mese dalle tasche per i contenuti pay è disposto incrementalmente anche a aggiungerci qualche altro genere infatti i pacchetti delle offerte pay sono un pacchetto base poi con varie offerte allora lì si inizia a fare incursioni anche in questa altra parte del pubblico che inizialmente non è motivata da una grande willingness da una alta disponibilità a pagare quindi non lo convincerà in origine ma che incrementalmente posso ancora catturare quindi il fatto che si vada o meno a competere sugli stessi gusti è dovuto alla concentrazione poi di alcuni su alcuni generi di una parte del pubblico su cosa sarebbe successo in realtà noi vediamo che in dieci anni ma soprattutto negli ultimi anni c'è una riduzione nella audience dei canali principali a favore soprattutto delle offerte multicanali l'osservazione che facevo è molto lenta e questo è un dato è molto lenta ma però dietro ha potenzialmente negli anni un meccanismo che può diluire le scelte del pubblico e articolarle su scelte più differenziate e il meccanismo è questo tipicamente il telespettatore nella televisione tradizionale era un telespettatore passivo che sceglieva il canale da cui l'importanza del posizionamento del renderlo riconoscibile più che lo specifico programma i telespettatori potrebbero essere identificati dalla sequenza di tasti con cui proseguivano nel loro remote control nel selezionare i canali c'erano i 5 1 4 o gli 1 5 4 che era il tipico pubblico popolare che andava ai grandi canali canali 5 rai 1 eccetera con l'offerta multicanale il telespettatore è stimolato perché ha una marea di roba che può vedere e quindi inizia a imparare a scegliere e quindi inizia poi a seguire dei percorsi differenti se voi vedete i principali programmi 5 anni fa e oggi negli Stati Uniti che sono chiaramente il paese con più esperienza nell'offerta multicanale i primi 3-4 programmi leader rimangono gli stessi e con share abbastanza simili quello che è cambiato è il dopo cioè i canali i programmi di successo intermedio ecco che hanno visto ridursi individualmente il loro successo ma aumentarne il numero come dire è quello che viene chiamato la fat tail in una pubblicazione molto famosa su questi temi cosa vuol dire vuol dire che la gente poi segue percorsi individuali diversi e si disperde la mia unica osservazione finale è questo meccanismo è probabilmente molto più forte nell'entertainment che nelle news e quindi anche in America in realtà quello che vediamo è che alla fine all'ora dei TG alle 8 di sera c'è una alta audience sui canali tradizionali e poi liberi tutti e si disperdono fra mille scelte individuali secondo l'offerta molto ricca che abbiamo io mi scuso molto trovo molto villano andarsene via quasi subito dopo aver parlato ci sono ragioni personali di una figlia che studia in Inghilterra che oggi è a Milano e quindi la contesa era forte fra la vostra attenzione e quella di mia figlia quindi devo lasciarvi fra poco mi scusa comunque constato che hai le priorità giuste quindi ti ringraziamo tanti per essere venuto Filippo ci manca Filippo e Gren per dare l'inizio con un certo ritardo al segmento successivo che riguarda la ricerca del centro Nexa su libertà di espressione online in Italia e qui devo dire che ci sono i due livelli quello della particolarità